Nunzio, da oggi ho cambiato mestiere, perché qua ho il coronavirus, l'attività, e vendo le ceste di Vimini. Non mettere le mani, non mettere le mani. E sono mie, sono mie. Facciamo così. Ah, vendo le ceste di Vimini. Metti i guanti. Metti i guanti. No, uno solo, che mi hai detto a fare due, Nunzio? E' uno che mi dà tutti questi guanti. Basta che... Allora. Posso mettere una cosi anche? Ah, beh, poi così, tipo quelle di Frankenstein. Metti i dettagli, mi provo. Vendo le ceste di Vimini. Ho questa acqua, vedi quant'è bella questa? Tre colori. C'è questo vino fatto a intreccio, 15 euro. Quest'altro è un po' più... Quello era più... Questo è più piano, vedi? Sempre intrecciato. Può mettere la frutta, pianotata. Ah, frutta, può mettere, diciamo, i panzerotti, le focaccine. E poi c'è questo qua, un po' più grezzo, più rustico, che è proprio marrò. Ah, metti la carne. Qua posso mettere, quando fai l'arrosto, quando fai il pollo, puoi mettere benissimo qua. E, Nunzio, quando c'è il sole, te lo puoi mettere anche come cappellino. Eh, tasso? Quindi, le mettiamo qua. Ne abbiamo già vendute una... Oh, che sta qua, Nunzio? Ne abbiamo vendute già una quindicina. Quindi, diciamo, ne sono rimaste... I primi tre che vengono, li regaliamo proprio, eh? Ma fai da sì. Ok. Buongiorno, amici. Mi piace come con queste mani che sembrano... Eh, madonna me. Buongiorno, amici di Kikri. Buongiorno a tutti. Buona giornata. Puntata bellissima oggi. Sempre ad alta mura. E mo che mi fai per alzarmi gli occhiali, così? Sì, ok. Via mura megalitiche. No, siamo proprio dentro le mura megalitiche, giusto? Quindi queste pietre dovrebbero essere pietre storiche, pietre megalitiche. Queste sono le megalitiche, cioè non è che sono mini-littiche, sono mega, non mini, mega. Chissà qual... Preside Tranni, buongiorno. Noi siamo due ignoranti, io e Nunzio. Ma megalitiche, a che secolo, a che epoca, risalgono. Noi non lo sappiamo. C'è scritto all'inizio e non l'abbiamo visto. E che dice là? Là c'è IV. IV. E c'è significa quinto secolo avanti Cristo. Boh, non lo sappiamo. Megali, vabbè. E la preside magari poi ci aggiornerà sul... Allora, vi faccio vedere... Mi devo stare in ogni occhia. Ripeto sempre. Altamura è una città, l'hanno detto parecchi studiosi, scienziati, elettromeccanici. Radio tecnici. Altamura è una grande città ad altissima vocazione turistica. Perché, come dire, ci hanno i mezzi. No, non ci hanno i mezzi. Ci hanno il paesaggio. Ci hanno le location proprio speciali, adatte, per diventare una città ad alta vocazione turistica. E' fesso le mura megalittiche. Cioè, io le mura megalittiche, se fossi stato un sindaco, anche i precedenti sindaci che sono qui, avrei fatto la richiesta all'UNESCO. Perché le mura megalittiche di Altamura sono, diciamo, un patrimonio mondiale dell'umanità. Ma qualcuno avrà fatto la domanda all'UNESCO. No, no, sì. No, l'hanno fatto per le piedi, l'imbronte di un dinosaurio. Capiraccio non lo fa. Vabbè, quindi non ci hanno questo interesse. Vabbè. E quindi hanno detto che ha patrimonio, ha vocazione turistica. Allora, io mi faccio vedere. Chiaramente, oddio, non è che voglio dare responsabilità a questa amministrazione, perché loro si sono insediati da un anno e mezzo, tutto sommato. Però glielo diciamo. Glielo diciamo. Perché il sindaco di prima, vabbè, non è stato tantissimo, però stacca. Stacca e attacca. Stacca e attacca. Mi sa che è stato per due volte stacca. Sindaco stacca. Noi ci siamo incontrati più di una volta, lei mi ha suggerito anche alcuni di cui c'è un po' il Maccheron per le puntate. Come mai non avete provveduto a rivalutare, a, come dire, attuare le manutenzioni ordinarie? È anche straordinario. È anche straordinario. Ah, Popolizio, che è venuto prima di stacca. Ho capito. Vabbè, Clotino, diciamo, era già nell'epoca della megalitica, diciamo, faceva il console romano, quindi lo fa 30 anni. Vabbè, non c'è. Però il sindaco, Popolizio, oh, Popolizio, che salutiamo, aveva capito, è stata una persona, come dire, intraprendente, e ha capito l'utilità e la wish and bone e Maccheron di queste mura megalitiche e aveva investito su questo, adesso si chiamano attrattori turistici, aveva, diciamo, investito per questa attrazione turistica di gran pregio, devo dire di gran pregio. Però, come sempre avviene per le attività, per le amministrazioni comunali, per lo Stato, ecco, per gli amministratori, Stato, governo, regione, provincia, una volta fatto, quando riescono a completare un'opera, poi l'abbandonano a se stessi. Non c'è uno che prende in gestione, non si fanno opere di ordinaria manutenzione, e chiacca poi, stanno crolli e cadono tutte le megalitiche in derra, stanno crolli e si brucia il dodo, vedi le scatolette di tonne e pomodori ed è ricca. Cioè, ma di ci stiamo a parlare? Guarda, vedi, cioè, a quanti anni risale questa wish and bone e Maccheron del sindaco, come hai detto, che si chiama? Sala. Banchere e Popolizio. Ah, Sala e il sindaco di Milano, sindaco Popolizio, dieci anni? 2002. 2002, quindi sono, diciamo, 15 anni, no, 16 anni. Da allora, questa, come dire, quest'opera chiaramente storica, è memoria storica della città di Altamur, quindi c'è la testimonianza che nell'epoca megalitica Altamur esisteva in un certo modo. Allora, questo sindaco, Lungimirande, può... Ah, oh, vedi, Nunzio, che è andato a lezione dalla preside Tranni, era praticamente la recinzione. Altamura, Altamura, perché aveva le altemure, quindi che praticamente aveva un'ottima difesa, diciamo, dagli assalti dei barbari, dei materani, che quelli quando giocavano a pallone, assalivano i materani e venivano qua. Trovavano le mura e se ne chiamano andrete. Ah, è vietato salire e transitare sulle mura megalitica. Oh, hanno fatto pure un biglietto. Addirittura è vietato salire e transitare sulle mura. Qui non potete manca stare, secondo questo cartello. Ma se ne sono crollate tutto, ma guardate un po'. Cioè, da spendere, faccio un esempio, 10.000 euro per fare la manutenzione ordinaria. Adesso ne spenderanno 100.000 euro. Perché è ridotto in maniera... Volete un esempio? Allora, vedi quanto è bello questo? Dovrebbe essere una specie di paladiana. Definiamo paladiana. Come praticamente hanno utilizzato questa pietra, tagliata non perfettamente, a modo di mosaico, e saranno sicuramente 100 metri. Per 100 metri, questo era uno degli ingressi del parco mura megalitica. Vedi? Vedi come... Tipo, non lo so, i tratturi dei vecchi romani. No, proprio bello, bello, bello. Oh, vedete un po', a distanza di 12 anni, 13 anni, vedete un po', primo, devo cadere, com'è diventato. Tutto diverto, vedi? Queste pietre. Cioè, qua era tutto... Beh, infatti è rimasta soltanto la prima parte, vedi? Questa parte è ancora a regge, la parte laterale, e noi stiamo appunto camminando alla parte laterale, però, Nunzio, renditi conto che se vedi tutta la parte centrale, di tutto qua c'è pure una tubatura, forse, di Fon, di Fon, di Acqua e Bianca. Allora, vedi? Vedi un po'. Non so se gli amici di chi possono rendersi conto, qua c'è uno strapiombo forse di più di un metro. Vedi, vedi, vedi? Cioè, qui praticamente era, Nunzio, se mi segui, tutto pavimentato come vedi adesso qua, vedi? Vedi? C'era tutta questa pavimentazione. infatti, se ci spostiamo da questa, la parte superiore, ti rendi conto che ancora un pezzetto di pavimentazione decente, oddio, decente, è rimasta. Se tu mi segui, Nunzio, vedi che qua, che ti posso dire, un 30-40 metri ancora c'è una pavimentazione, però, guarda che, guarda che schifo. Cioè, questa è una cosa veramente vergognosa. Cioè, non c'è illuminazione, non c'è una panchina, non c'è, che ti posso dire, una, delle tabelle descrittive che per spiegare la storia delle mure megalitiche, c'è la storia, cioè, io qua ci avrei messo dei totem digitali che tu, dici, ti essi con le cuffie, ti essi tutta la storia. Scusa, Nunzio, puoi far vedere un campo lungo? Qua doveva essere tutto pavimentato con le pietre, sparito tutto. Ma poi, Nunzio, hai notato che è rimasto un fosso, un buco con il canale di scarico, ma hai notato che sono sparite pure le pietre? c'è anche perché, no, ma perché se sono fregate? Perché una pietra di queste, scusami, Nunzio, hanno un costo, una pietra di queste ha un costo, allora se tu ti freghi cento pietre di queste e te le vai a mettere poi al giardino che hai tu in villa, hanno fatto gola perché sono sparite, cioè, Nunzio, vedi, la copertura di questa zona qua, che non c'è più, è sparita, quindi si sono fregate pure le pietre che sicuramente non erano pietre megalitiche, erano comunque pietre industriali, no, lavorate in questi ultimi anni. Io poi volevo, chiaramente non è nelle mie facoltà, volevo interpellare un tecnico, un ingegnere, uno del settore per, no, fargli fare un sopralluogo, ma dico, questo lavoro è stato fatto a regola d'arte, o è stato fatto con i piedi. Dico io, chi doveva controllare, i tecnici del comune, hanno controllato, hanno fatto poi, il responsabile del RUP, ha fatto poi il collaudo, ha verificato, ha controllato in fase di, come dire, realizzazione, come veniva realizzata, perché c'è no, secondo me queste le hanno attaccate con la saliva, con lo sputo, cioè non è possibile che una pavimentazione del genere nel G di 12-13 anni si riduce così, che si sono fregate le pietre, cioè non esiste più, cioè l'unica testimonianza, soltanto quest'altro enunzio, quest'altro pezzettino è ancora rimasto intatto, forse perché non c'era la cunetta, cioè non hanno fatto un riempimento, però hanno pigliato la pesce, non mi stassi, a secco, e questo è la, sì, ecco, c'è il totem, e queste è la, diciamo, mure megalitiche, aranciata, qualche scienziato di una volta, qualche console romano, ma vabbè, megalitiche prima, ma vedete quante sono belle, cioè qualche materano che ancora non le ha viste, noi siamo abituati a vedere i sassi, però comunque è una cosa bella da vedere, è una testimonianza, è una memoria storica, sinceramente non lo so per quale motivo gli amministratori passati, perché questi futuri adesso glielo stiamo dicendo, anche se sono convinto che qualcuno lo sa, perché questi amministratori che stanno adesso hanno fatto i consiglieri, anche penso cinque anni fa, dieci anni fa, quindi fanno la parte degli ingenui, no? Facciano fin di garanzare problemi e noi adesso lo diciamo, noi adesso lo diciamo, l'abbiamo detto, i cittadini altamurani sono venuti a conoscenza del degrado, dello schifo che sta alle mura, megalitiche, hanno fatto questa cosa, porta aurea o alba, questa dovrebbe essere proprio la porta aurea, cioè dove siamo andati noi era la porta aurea, la doppia cinta murare di altamura era interrotta da porte che immettevano sulle strade di collegamento, con i centri vicini, la porta aurea o porta aurea ricostruita in questa illustrazione, vedi questa, si apriva sulla via per Cassano e che è stata per Cassano? Sì, sul lato interno della porta c'era una torre di vedetta o di difesa, ecco, questa era la porta aurea allora perché no? Io fossi stato un amministratore comunale o anche regionale, fondi regionali, fondi europei, avrei ricostruito alla lettera la porta aurea qua, quindi questa porta che praticamente era un varco alla strada che conduceva a Cassano, quindi mettere anche le torrette di controllo, cioè fare una cosa, cioè io non lo so, allora ho ragione che quando ci sono alcuni politici nazionali che dicono ma questi che ci amministrano non hanno gestito nemmeno un bar, a questo punto io gli do ragione, cioè quando questi amministratori italiani, adesso non parliamo di Altamura o di Matera, parliamo in generale, sono incapaci perché non hanno mai gestito niente, quindi nemmeno un bar, è chiaro che poi trovandosi un tesoro del genere, le mura megalitiche intatte, cioè praticamente con i secoli sono rimaste incontaminate, sono rimaste intatte, quindi questo è un ricordo, è una memoria storica, non se ne possono fregare di meno, le lascio così abbandonate, quindi mi auguro che questa amministrazione sono passate un anno e mezzo, più o meno, hanno ancora tre anni e mezzo di amministrazione, di buona amministrazione, se possono contemplare, se possono, come dire, inserire nei loro progetti di sviluppo della città di Altamura che è stata definita a vocazione, attenzione Nunzi che c'è il muro, ne vai sotto, a te, che è stata definita a vocazione turistica, se possono inserire, aggiungere nei loro piani di progetti anche la ristrutturazione, ristrutturazione, ormai, come dire, nemmeno più una manutenzione ordinaria, bensì una ristrutturazione straordinaria di questo parco e delle mura megalittiche, più di questo io non posso dire, purtroppo, c'è pure un cartello che dice il secolo, però siccome i numeri romani non li conosco, verrà dato i rifiuti, no? Ah, è dall'altra parte, quindi, dall'altra parte ci dovrebbe essere il Wish and Blonde e il Maccherone. Oh! Allora, zona archeologica, mura megalittiche, quarto secolo avanti, quattro secoli prima che nascesse Cristo, quindi stiamo proprio all'uomo preistorico. Ah, vedi, c'è il cartello che poi, eh sì, allora, la prossima volta facciamo la puntata con Arturo, quella è un metro e novanta e riesce a... Ma secondo voi, se potete mettere una cartella a due metri in minz, che è uno diversamente alto come me, con i caratteri, cioè qua possono venire gli oculisti a fare la prova per vederli di ottrì degli occhiali e non c'è nessuno, testimonianza, fortificazione, diffuso anche negli altri centri della Peucezia, le mure, papapà, papapà, vabbè, magari non picchi più vasci, vabbè, Arturo, traduci per favore. Vabbè, concludiamo questa puntata, ripeto, anche oggi chiudo mortificato, molto mortificato, indignato, perché, cioè, ci sono tante bellezze ad Altamura e non vengono valorizzate, non vengono, vabbè, ci vediamo domani, a seguire c'è sempre Canale 2, c'è, ci vediamo domani con una nuova puntata, perché qua sta iniziando a piovere. Per oggi è tutto, amici, chi cristalvo, buono.